San Marzano sul Sarno, via ai lavori sui manti stradali di quasi tutta la città, tanti cantieri per il rilancio urbanistico. L'amministrazione della sindaca Carmela Zuttolo assiste agli interventi di rifacimento delle strade cittadine, frutto di una programmazione molto lunga ma a costo zero per i cittadini. Ogni fondo è stato reperito dai vari progetti nazionali ed europei e destinato a cambiare radicalmente l'immagine della città. I cittadini di San Marzano e il bilancio del comune di San Marzano non sta spendendo un solo euro per fare tutti questi interventi. Che sia chiaro, siamo stati bravi a recepire fondi, siamo stati bravi a coordinarci con gli altri enti e altri proprietari e il risultato è quello di avere le strade asfaltate, una pubblica illuminazione efficiente, le reti più performanti, la fibra e tutto quello che vedete nelle prossime settimane. Era evidente il bisogno di intervenire radicalmente davanti a condizioni stradali spesso insufficienti e questi cantieri, insieme a quelli che seguiranno per l'impianto di pubblica illuminazione, completeranno un miglioramento delle infrastrutture cittadine. Abbiamo in corso diverse progettazioni presentate per il PNRR, non abbiamo perso nessuna occasione di presentazione, sperando di cogliere quante più opportunità possibili. San Marzano su Sarno è un grande cantire aperto, un'imponente opera di riqualificazione urbana che si sta attuando in queste settimane sul nostro territorio. Un'opera di programmazione da diversi mesi, coordinata con diversi enti e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Stiamo rifacendo le strade di tutta la città, dalla periferia all'esterno, siamo partiti da via Giovanni XXIII, siamo su via Pendino, su via Le Roma, abbiamo completato via Gofoscolo, siamo entrati al centro, su via Cesare Battisti, Vittorio Veneto, Capitano Oliva, via Piave. Stamattina siamo a via Termini Bianco, via Unità d'Italia, prima e seconda attraversa via Rico Berlinguer, prima attraversa Vittorio Veneto, veramente un importante lavoro di riqualificazione urbana per la sicurezza dei pedoni dei cittadini. Abbiamo fatto dei tavoli tecnici, delle conferenze di servizio con Enel, Gori, Open Fiber, abbiamo servito la rete, la fibra, su gran parte del territorio. A breve installeremo anche l'antenna per la ricezione dei telefonini. Siamo partiti con un importante lavoro di riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione, rendendo più efficiente il nostro impianto. Abbiamo già cambiato tutti i LED nelle tre strade del centro storico, Capitano Oliva, Cesare Battisti e Vittorio Veneto. Stiamo facendo delle sperimentazioni sui cortili, poi interveremo subito sul Largo dei Gasperi, interverremo sulla rotonda, delle intersezioni importanti che riqualificheremo, diventeranno più belle e più sicure. Un importante progetto anche a Sergente di Pascale, la piazzetta che sta davanti alle suore, lì sarà fatto un nuovo parcheggio con delle aree a verdi, una colorina di ricarica. Veramente San Marzano sta proiettata in quella che è la Smart City del futuro.